l'atomica su hiroshima e nagasaki c'entra anche l'illuminismo di corrado nierre il 6 agosto 1945 bomba atomica su hiroshima il 9 agosto 1945 bomba atomica su nagasaki quale giustificazione occorreva terminare subito la guerra ci sarebbero stati altri morti altre spese insomma macchiavellismo pieno il fine giustificerebbe anche i mezzi più orrendi e morirono circa 100.000 persone conclusione coerente di una guerra che fece ben 45 milioni di morti lo sapete che il ventesimo secolo è riuscito a far più morti ammazzati di tutti i secoli precedenti solo le due guerre mondiali hanno causato 70 milioni di morti 45 la seconda e 25 la prima eppure con la rivoluzione francese erano trionfati i diritti dell'uomo e questi vessillati su tutte le bandiere ma proprio questo fu la causa di tante tragedie quando non si parla più di diritti di dio ma solo di diritti dell'uomo a pagarne le conseguenze non è dio ma l'uomo argomentiamo l'illuminismo ebbe una sua concezione dell'uomo coerentemente conseguente ai presupposti dell'illuminismo stesso dal momento che dicevano gli illuministi esiste solo la materia l'uomo è solo corpo è solo una macchina come amava dire la maetri ora se l'uomo non è altro che il suo corpo vuol dire che non ha un'anima e se non ha un'anima vuol dire che ha un valore finito per il cristianesimo invece l'uomo è sì materia ma è anche spirito e nel suo spirito si esprime l'immagine e somiglianza di dio che ha in un certo qual modo un valore infinito essendo il riflesso stesso di dio che è ontologicamente infinito in questo caso l'uomo viene sempre comunque prima di ogni altro valore finito torniamo all'illuminismo l'uomo dunque sarebbe solo un corpo quindi avrebbe un valore finito ma se ha un valore finito vuol dire che può essere posposto messo dopo ad altri valori come ideologia lo stato la rivoluzione la razza una volta infatti che si è ammesso che l'uomo ha solo un valore finito come si fa a dimostrare che è un valore sempre comunque superiore agli altri e così l'uomo può anche essere sacrificato in nome di qualcos'altro anche in nome di un'intenzione far terminare subito una guerra che non era bene che continuasse la follia uccidere tanti innocenti per non uccidere ancora